Mario Cauci, marito di Noemi Bocchi, condannato a 4 anni di carcere per maltrattamenti e mancato pagamento del mantenimento. La reazione della compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, sui social media non si è fatta attendere. Attraverso le sue storie di Instagram ha commentato la condanna con la scritta Dio esiste su sfondo nero, accompagnata da emoticon delle mani giunte del sole. La denuncia nei confronti di Cauci risale al 2019, quando avrebbe aggredito Noemi mettendole le mani al collo. L'ex marito ha sempre parlato di macchinazioni e non avrebbe versato l'assegno di mantenimento per i figli. Il trasferimento a Roma con la moglie sarebbe stato il primo grande errore per Cauci, che ha vissuto un periodo negativo tra depressione e fallimento dell'azienda di famiglia. Mario Cauci è un imprenditore che gestisce un'azienda di marmo fondata dal nonno. Suo padre è stato presidente del Tivoli Calcio e suo figlio ha fatto parte dell'amministrazione del club. La famiglia Cauci è radicata nella tradizione del lavoro e dell'etica, con il capostipite che ha trasmesso a Mario i valori che lo hanno reso l'uomo e l'imprenditore che è a Mario i valori che lo hanno reso l'uomo e 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 l'uomo. Grazie a tutti.